Su delega della procura distrettuale i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di quattro soggetti gravemente indiziati dal reato di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso. L'indagine è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catania e condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò da febbraio a maggio di quest'anno ha consentito di accertare una estorsione aggravata mediante intimidazioni e minacce derivanti dall'appartenenza al clan mafioso di Rapisarda Giovanni, esponente della famiglia Santa Paola del Colano di Catania attualmente detenuto all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1993 di un noto imprenditore catanese. Il Rapisarda, sebbene ritenuto durante i colloqui, impartiva disposizioni ai suoi familiari in particolare alla moglie e ai figli, redigendo egli stesso in un'occasione una lettera dai toni intimidatori indirizzata alla vittima, alla quale è stata richiesta nel corso degli anni in particolare dal 2012 ad oggi la cifra complessiva di 1.700.000 euro.